A sorpresa l'assessore della cultura Alberto Ronchi annulla tutti i concerti all'aperto previsti dal cartellone estivo del comune di Bologna, a pesare è stata la decisione del TAR che ha colto le richieste dei residenti di Piazza Verdi. Sarà il ministro dell'interno alla Maria Cancelliere a rappresentare il governo alla 32esima commemorazione della strage del 2 agosto alla stazione di Bologna, non temo contestazioni, dice il capo del Viminale. Si sono presentati spacciandosi per i nuovi vicini di casa ma dietro ai modi gentili c'era una coppia di truffatori, l'ennesimo raggiro, una persona anziana, successo in zona Murri, vittima a un'84enne derubata di 3.000 euro. Un motociclista di 46 anni è morto nel pomeriggio a San Giorgio di Piano, gli è stato fatale uno scontro con un'auto lungo la strada che porta a Galliera, inutili tentativi del 118 di rianimarlo. Tra i nuovi poveri ci sono anche imprenditori falliti, artigiani in crisi e tanti anziani che non arrivano a fine mese. La fotografia è scattata dall'Associazione Avvocati di Strada che ha presentato una guida per le persone senza fissa dimora che vivono a Bologna. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale, apriamo con una notizia che riguarda l'estate culturale bolognese, il cartellone estivo del Comune. Oggi l'assessore alla cultura Alberto Ronchi ha annunciato a sorpresa la cancellazione di tutti i concerti all'aperto che erano stati messi in calendario. Il motivo sta in una recente sentenza del TAR in cui si erano rivolti i residenti di Piazza Verdi che volevano fare annullare la delibera comunale sui concerti. Sarebbero troppi i decibel sparati nelle piazze della città, troppo il rumore e l'assessore Ronchi ha dovuto piegare la testa. Facciamo il punto nel servizio di Massimo Ricci. Decisione clamorosa ed estrema dell'assessore comunale alla cultura Alberto Ronchi che a sorpresa cancella il cartellone estivo dei concerti all'aperto a Bologna. La decisione giunge in seguito alla sentenza del TAR che ha accettato la richiesta di sospensiva dei residenti nei confronti della delibera della giunta, una sentenza che ha spiazzato lo stesso assessore Ronchi. La delibera 80 non era una delibera di deregulation ma era una delibera che poneva delle regole e le regole proprio in questo rapporto positivo con gli operatori che ringrazia di cuore, ringrazia di cuore, sono state tutte rispettate. Cioè noi stiamo parlando del fatto che in questa città non si possono svolgere dei concerti che terminano alle undici e mezza. Questa è la regola che noi avevamo messo, questa regola è stata rispettata da tutti. Ma tra i punti che potrebbero aver indotto il TAR ad annullare la delibera comunale c'è il limite acustico di legge. In sostanza il comune non può alzare il limite di decibel fino a quota 75 come previsto dalla delibera. Vengono così cancellati i cinque concerti dell'orchestra del teatro comunale programmati in Piazza Verdi dove le date che saltano complessivamente sono nove. Cancellati anche i quattro concerti rimanenti a Vicolo Bolognetti e uno al salotto del jazz in via Mascarella che però potrebbe essere spostato all'interno. A breve la Giunta proporrà un regolamento per poter svolgere la prossima stagione estiva visto che la norma di riferimento al momento è la legge regionale. Adesso non si scappa più, avverte Ronchi. Il nodo politico si deve sciogliere. O si fa un regolamento o la prossima estate non ci sarà. Come assessore mi assumo le mie responsabilità politiche ma mi aspetto che la maggioranza contribuisca in maniera positiva, la maggior parte della città vuole vivere l'estate. È l'opinione di Ronchi che evidentemente non coincide con quella dei residenti. Ultima pagina, incidente mortale questo pomeriggio a San Giorgio di Piano nel Bolognese. Motociclista di 46 anni ha perso la vita schiantandosi contro una macchina. La vittima si chiamava Giacomo Lo Scalzo e abitava a Galliera, poco lontano dal luogo dell'incidente con la famiglia. Viaggiava su una moto 600 che per cause ancora da accertare ha tamponato violentamente una Peugeot che procedeva nella stessa direzione. Dopo l'urto l'uomo è stato sbalzato dalla sella, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118. Sarà il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, a rappresentare il governo alla commemorazione per la strage del 2 agosto. Il ministro, ex commissario straordinario a Bologna, parteciperà alla cerimonia in Consiglio Comunale dove incontrerà i parenti delle vittime. Vediamo. Alla cerimonia per il 32esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, il governo sarà rappresentato dal ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. L'ho annunciato la stessa cancelliere Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage, in una telefonata questa mattina. L'ex commissario del Comune di Bologna, ora al Viminale, tornerà in città e avrà tutte le risposte, almeno quelle possibili, le domande e le richieste dei parenti delle vittime, fa sapere ancora il presidente dell'Associazione. Bolognesi si dice molto soddisfatto della presenza a Bologna della Cancellieri, che parlerà nell'aula del Consiglio Comunale. Per le cerimonie di commemorazione della strage sono attesi in città più di 120 parenti delle vittime, più di quelli dell'anno scorso, precisa Bolognesi. A loro fianco dovrebbero presenziare i presidenti delle associazioni dei familiari colpiti da altre stragi, ma sono annunciati anche tra gli altri Agnese Moro, la presidente dell'Associazione delle Vittime di Violenza Politica, Maria Teresa Dabdon, il fratello di Paolo Borsellino Salvatore, il figlio del giudice Alessandrini Marco. Intanto prosegue il due alla distanza tra il deputato di Fli Enzo Raisi e il presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della strage Bolognesi. Vedo che Raisi dice di volermi regalare un suo libro, lo ringrazio, ne ho giusto bisogno per un tavolo che traballa, lo punge Bolognesi. Il match si è infiammato ieri quando il Finiano non solo ha rilanciato le sue tesi sulle piste alternative per la strage, ma ha anche definito Bolognesi un abusivo nel suo ruolo di presidente dell'Associazione. E Raisi oggi ritorna alla carica. Qualcuno mi ha chiesto perché sono stato così duro con il presidente dell'Associazione delle Vittime del 2 agosto. Io gli ho risposto che sono stato duro con il signor Bolognesi, ossia con una persona che con il ruolo che ricopre dovrebbe ascoltare tutti, non insultare ogni anniversario chi non la pensa come lui, come ha fatto anche quest'anno quando ha definito da benaggini le nuove carte sulla pista palestinese su cui si è attivata anche la procura di Bologna, ricorda Raisi. Ma soprattutto obietta al deputato. Bolognesi non può ogni anno riproporci la solita sequela di insulti, il solito film di Fioravanti e Gelli. Tra l'altro quest'anno, avendo esaurito il materiale, ha pensato bene di riproporre una intervista falsa a Fioravanti, fatto che la dice lunga sulla buona fede dell'uomo, conclude Raisi. Fa piacere tornare a Bologna per rappresentare il governo alla commemorazione della strage del 2 agosto 1980. L'ho appena saputo e mi sto organizzando, torno valentieri lì. Ci sono stata un anno e mezzo, lo ha detto il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancelliere, margine di un'audizione al Senato e alla domanda se teme contestazioni. Il ministro ha poi risposto no. Non si arresta il fenomeno delle truffe agli anziani, che soprattutto nei mesi estivi diventa un vero e proprio allarme. L'ultimo episodio a Bologna è accaduto ieri in zona Murri con un copione un po' diverso dal solito. Il servizio è di Federico Balletti. Si sono presentati spacciandosi per i nuovi vicini di casa, ma dietro i modi gentili e affabili c'era una coppia di truffatori che in pochi minuti hanno messo a segno l'ennesimo raggir a una persona anziana. È successo ieri pomeriggio in via Schiassi, zona Murri, dove una pensionata bolognese di 84 anni è stata derubata di 3.000 euro in gioielli. Come al solito i due imbroglioni l'hanno avvicinata sotto casa. L'hanno detto di avere da poco acquistato l'abitazione all'ultimo piano del condominio e di essere alle prese con la ristrutturazione. Con la scusa di trovare qualche spunto per la loro nuova casa, la donna ha chiesto all'anziana di vedere il suo appartamento facendola cadere nel tranello. La pensionata l'ha fatta entrare quando si è sentita chiedere dove tenesse gli oggetti di valore. Convinta che quella donna volesse un semplice consiglio, l'ha indicato il nascondiglio in camera da letto. Tornata in soggiorno, la truffatrice ha invece fatto entrare il complice che si è infilato in camera e ha arraffato i preziosi custoditi in mezzo alla biancheria. Poco dopo, di fronte a ulteriori domande strane, l'84enne ha cominciato a insospettirsi ma era ormai troppo tardi. I due finti vicini di casa se ne erano già andati e lei si è accorta che avevano portato via tutti i suoi gioielli. 16 anni di reclusione con il rito abbreviato per Claudio Bertazzoli, carabiniere di 46 anni che il 2 aprile 2011 uccise con 46 colpi di martelle e forbici la convivente Camilla Uccello originaria di Bari di 10 anni più giovane. A loro casa di Baricella nel Bolognese una sentenza arrivata dopo un rito abbreviato. La madre della vittima alla lettura della sentenza è scoppiata a piangere dicendo se fosse capitato ai vostri figli sareste contenti di una sentenza così? Non è stata fatta giustizia, ha commentato l'avvocato Monica Anassisi che ha assistito come parte civile la madre e il fratello della vittima. La vita di una ragazza di 34 anni massacrata con 46 colpi di martello e forbici penso che valga qualcosa di più di una condanna a 16 anni di reclusione. Purtroppo sono profondamente sfiduciata nei confronti di questa giustizia. Molto scetticismo da parte di Confcommercio e Confesercenti sul nuovo piano per la qualità dell'aria da poco varato dalla regione Emilia-Romagna. Le associazioni di categoria hanno firmato anche un accordo con Cari Parma. Vediamo. Negli ultimi mesi è lievemente migliorata la condizione di accesso al credito per le imprese emiliano-romagnole. A sostenerlo sono stati Ugo Margini e Stefano Bollettinari, rispettivamente presidente regionale di Confcommercio e direttore di Confesercenti Emilia-Romagna. Per venire incontro alle difficoltà delle imprese è stato firmato un protocollo d'intesa tra le due associazioni di categoria e Cari Parma Credita Agricol a sostegno delle attività commerciali. Di fatto abbiamo messo a disposizione un pacchetto di condizioni molto competitivo. abbiamo anche messo a disposizione dei finanziamenti che permettono alle aziende in un particolare momento difficile come quello attuale di gestire la liquidità e soprattutto effettuare investimenti a medio e lungo termine con finanziamenti ad hoc. Le associazioni regionali dei commercianti tornano ancora sul tema del traffico, in particolare sul nuovo accordo regionale per la qualità dell'aria e l'accessibilità dei centri storici. Il nuovo provvedimento sulla qualità dell'aria che blocca ancora i giovedì e le domeniche partendo da ottobre, un provvedimento che non ha dato nessun risultato negli anni precedenti, però siamo sicuri che penalizza ampiamente i nostri commercianti del centro e il turismo nei centri storici. Bisognerebbe arrivare a dei cambiamenti che fossero frutto della consapevolezza, in questo caso dell'amministrazione comunale, che alcune cose si possono cambiare perché c'è bisogno di non penalizzare le imprese del centro storico. Inflazione lieve calo a Bologna nel mese di luglio. La variazione dei prezzi al consumo rispetto al mese precedente è infatti del meno 0,1%. Il tasso tendenziale annuo scende così al più 2,5%. L'ufficio Statistica del Comune spiega in particolare che a registrare una consistente diminuzione è stato il comparto dell'alimentazione, la frutta meno 7,7%, gli ortaggi meno 4,1% e le carni meno 0,2%. Il calo interessa anche il settore dei servizi ricettivi e di ristorazione, meno 1,5% dovuto alle diminuzioni di prezzo di alberghi e bed and breakfast. In calo anche i carburanti rispetto al mese precedente, anche se la variazione tendenziale su base annua resta con il segno più. I settori che hanno visto un aumento dei prezzi risultano quelli dell'abitazione, più 0,8% e degli altri beni e servizi, più 0,7%. Cambiamo argomento, è stata presentata oggi a Bologna la nuova edizione di Dove andare per una guida destinata alle persone senza fissa dimora. Nell'occasione è stato fatto il punto sulle nuove povertà e sul tipo di senza tetto che popolano la nostra città. Vediamo cosa è emerso nel servizio di Federico Balletti. Tra gli homeless bolognesi senza tetto costretti a vivere per strada o in strutture di assistenza, ormai ci sono anche piccoli imprenditori falliti, artigiani in crisi, persino ex presidenti di consigli di amministrazione, oltre a padri separati e tanti anziani che non arrivano a fine mese. A scattare questa fotografia è Antonio Mumolo, presidente dell'Associazione Avvocati di Strada, che ha presentato la nuova edizione di Dove andare per, una guida destinata alle persone senza fissa dimora che vivono a Bologna. All'interno ci sono tutti gli indirizzi utili per il senza tetto, dove poter ricevere un pasto caldo, dei vestiti, gli ambulatori e i centri dei servizi sociali. L'Associazione, dal suo osservatorio privilegiato, ha visto negli ultimi tempi un peggioramento della situazione. Ormai, spiegano gli avvocati di strada, ci chiedono la guida anche associazioni che prima non ne avevano bisogno, come l'Auser o i sindacati dei pensionati. Tanto che, secondo l'assessora al welfare di Bologna, Amelia Frascaroli, si sfata il mito che, aumentando la risposta, aumenta anche la domanda di esclusione. Qui, ha proseguito, la domanda c'è indipendentemente, aumenta giorno per giorno, con forme di povertà che non eravamo abituati a vedere né a pensare. Lo confermano anche i numeri delle pratiche aperte dall'Associazione nel primo semestre del 2012, già 149 contro le 256 di tutto il 2011, e molte sono insospettabili. Per noi è più complicato, spiegano dall'Associazione, perché sono persone che si vergognano a farsi aiutare, non avendo mai pensato di poter finire in mezzo a una strada. Avvocati di strada, già presenti in 29 città italiane, di cui 7 in Emilia Romagna, con oltre 700 professionisti che lavorano a titolo gratuito, continuano ad ampliarsi. In cantiere ci sono nuove aperture, la Spezia, Genova, Monza e Caserta. Aveva in casa diverse piantine di marijuana, ma anche ascise e funghi allucinogeni. Nei guai è finito un 28enne di Ozzano Emilia, denunciato da Carabiniere e Polizia Municipale, che ieri sono intervenuti davanti alla sua abitazione di Ozzano Emilia, dopo alcune lamentele per schiamazzi. Sul posto hanno però notato che sul davanzale della finestra c'erano piantine somiglianti a marijuana. Complessivamente sono stati sequestrati 11 arbusti di cannabis coltivati in una serra artigianale, circa 8 grammi di hashish ed anche 38 funghi allucinogeni, oltre ad un sacchetto in plastica che conteneva 140 foglie di marijuana. Parliamo adesso di un'iniziativa per incentivare il turismo a Bologna. Vediamo i servizi. Costerà 20 euro per due giorni, consentirà di entrare nei musei comunali, di usare trasporto pubblico, di navigare in wifi senza limiti e di usufruire di sconti in oltre 200 strutture. È la nuova Bologna Welcome Card, dedicata ai turisti, promossa dal Comune, insieme alla Fondazione Carisbo e alla Camera di Commercio, e gestita da Bologna Congressi. La nuova card sarà valida per un adulto e un ragazzo sotto i 14 anni e si attiverà al primo utilizzo. Nel suo carnet ci sarà l'ingresso gratuito nei musei comunali e in quelli del circuito Genus Bononie. Il trasporto urbano gratuito per 24 ore, oppure il trasferimento gratuito via BLQ da e per l'aeroporto Marconi. Wi-Fi gratuito in città senza limiti di tempo, sconti e offerte speciali per i principali servizi turistici e presso più di 200 strutture, tra locali notturni, negozi, ristoranti, centri benessere e attività per il tempo libero. Bologna Welcome Card potrà essere acquistata in tutti i punti di informazione e accoglienza turistica Bologna Welcome oppure prenotata online al sito bolognawellcam.it. Finalmente anche Bologna ha la sua card turistica dedicata ai visitatori, a tutte le persone che arrivano a Bologna per fiere e congressi ma anche per turismo. È un progetto di squadra realizzato insieme alla Fondazione Carisbo, la Camera di Commercio e tantissimi operatori, albergatori, associazioni economiche e commercianti. È un esempio anche di sinergia e di collaborazione con le realtà economiche, con le realtà culturali della città. Siamo riusciti a mettere a fare un ottimo lavoro di squadra e a creare un prodotto che semplifica innanzitutto la visita di Bologna al giurista. Un operaio edile ha trovato una bomba a mano della Prima Guerra Mondiale mentre faceva dei lavori di ristrutturazione in via Andrea Costa a Bologna. L'uomo si è accorto della presenza dell'ordigno ieri alle 17, dopo aver demolito un muro perimetrale. Sono intervenuti gli artificieri della Polizia che hanno accertato che la bomba era ancora, nonostante il tempo passato, in condizioni di sicurezza. La bomba è stata poi rimossa e portata via dagli esperti inesplosivi. Noi ci fermiamo un attimo, poi saremo di nuovo in studio. A tra poco. Di nuovo in studio con ETG. Prima di andare avanti rivediamo insieme i titoli del nostro giornale. A sorpresa l'assessore della cultura Alberto Ronchi annulla tutti i concerti all'aperto previsti dal cartellone estivo del Comune di Bologna. A pesare è stata la decisione del TAR che ha colto le richieste dei residenti di Piazza Verdi. Sarà il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancelliera, a rappresentare il Governo alla 32esima commemorazione della strage del 2 agosto alla stazione di Bologna. Non temo contestazioni, dice il capo del Viminale. Si sono presentati spacciandosi per i nuovi vicini di casa, ma dietro ai modi gentili c'era una coppia di truffatori. L'ennesimo raggiro, una persona anziana, successo in zona Morri, vittima una 84enne derubata di 3.000 euro. Un motociclista bolognese di 46 anni è morto nel pomeriggio a San Giorgio di Piano. Gli è stato fatale uno scontro con un'auto lungo la strada che porta a Galliera inutili i tentativi del 118 di rianimarlo. Tra i nuovi imprenditori ci sono anche imprenditori, tra i nuovi poveri ci sono anche imprenditori falliti, artigiani in crisi e tanti anziani che non arrivano a fine mese. E la fotografia scattata dall'Associazione Avvocati di Strada che ha presentato una guida per le persone senza fissa dimora che vivono a Bologna. Al via anche quest'anno ad Ozzan Emilia, agosto con noi, la manifestazione dedicata all'Istituto Ramazzini. Vi diamo servizio. Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con agosto con noi, la rassegna che si pone l'obiettivo di raccogliere fondi a favore dell'Istituto Ramazzini. Dall'8 al 20 agosto nel Comune Emiliano si svolgerà la 26esima edizione della Chermesse. 13 serate di musica e spettacolo promossi da Umberta Conti in cui gli artisti si esibiscono gratuitamente. Lo scorso anno sono stati raccolti 60.000 euro e quest'anno si spera di ripetere l'impresa. Sì, noi come amministrazione comunale siamo molto contenti di ospitare questa manifestazione che tra l'altro è organizzata proprio dalla sessione Soci Ramazzini di Ozzano con il contributo di tanti volontari, 150 volontari circa, si alternano tutte le sere per condurre questa bellissima manifestazione insieme a tanti artisti, a buona musica e ottimo cibo direi. Quindi un momento di spettacolo e anche di solidarietà. Sì, un momento di spettacolo e di solidarietà in quanto il ricavato della festa viene devoluto all'Istituto Ramazzini, l'Istituto si occupa di ricerca e nel nostro territorio c'è sempre bisogno di ricerca e sempre meno fondi a disposizione. Attesi per la Chermesse sponsorizzata dalla provincia di Bologna. Numerosi artisti tra cui Andrea Mingardi, Franco Fasano, Gatto Panceri e tanti altri tra cui il Duotori, composto da Giacomo e Cristiano. Il 9 agosto il Duotori parteciperà allo spettacolo dell'Istituto Ramazzini a Ozzano, è vero? Sì, tra tanti artisti, a noi è capitato questo giorno fatidico, venite a vedere perché insomma è uno spettacolo anticrisi perché ci saranno tanti artisti che partecipano tutti insieme e il giovedì se volete venire a vederci faremo anche un pezzo del nostro spettacolo. Giacomo e Cristiano, il Duotore, ricordiamo direttamente da Londra perché abbiamo finito da poco le Olimpiadi, no? Sì, hai fatto la gara individuale di squadra, di coppia? No, la carabina. Allora venite un colpo, ma che cosa stai dicendo? Ma perché devi dire delle cose che non c'entrano niente? Chiedo scusa allora, va bene, comunque Istituto Ramazzini ad agosto, quando? Agosto con noi, il 9. Il 9, grazie. Ancora una breve pausa, poi saremo di nuovo in studio. Di nuovo in studio con ETG, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, siamo in chiusura, andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale. A sorpresa l'assessore della cultura Alberto Ronchi annulla tutti i concerti all'aperto previsti dal cartellone estivo del Comune di Bologna, a pesare è stata la decisione del TAR che ha accolto le richieste dei residenti di Piazza Verde. Sarà il ministro dell'Interna, la Maria Cancelliera, a rappresentare il governo alla 32esima commemorazione della strage del 2 agosto alla stazione di Bologna, non temo contestazioni, dice il capo del Viminale. Si sono presentati spacciandosi per i nuovi vicini di casa, ma dietro ai modi gentili c'era una coppia di truffatori, l'ennesimo raggiro, una persona anziana, successo in zona Morri, vittima a una 84enne derubata di 3.000 euro. Un motociclista bolognese di 46 anni è morto nel pomeriggio a San Giorgio di Piano, gli è stato fatta uno scontro con un'auto lungo la strada che porta a Galliera inutili i tentativi del 118 di rianimarlo. Tra i nuovi poveri ci sono anche imprenditori falliti, artigiani in crisi e tanti anziani che non arrivano a fine mese, la fotografia è scattata dall'Associazione Avvocati di Strada che ha presentato una guida per le persone senza fissa dimora che vivono a Bologna. Ed è tutto con questa edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci. Grazie.